Si è tenuta a penne presso la sala consigliere del municipio la seconda edizione del premio internazionale IR di destinazione d'arte 2021. Dopo la precedente edizione che si è svolta a Firenze nel palaggio di parte Guelfa, quest'anno sono stati premiati 35 personalità di eccellenza che nel quotidiano si occupano di comunicare le arti, la letteratura e la cultura. Il premio è presieduto da Massimo Pasqualone con la presidenza onoraria di Anella Prisco e composto da Eugenia Tabellione, Carlo Gentili, Maria Basile, Maria Grazia Genova, Elisabetta Grilli. L'arte è un bene di rifugio straordinario non solo in termini di investimento economico ma come creatività, come coraggio, come speranza, come voglia di ripartenza e soprattutto l'arte è un bene straordinario per le emozioni, per la bellezza. Quindi gli artisti pur nella pandemia hanno lavorato, hanno prodotto, hanno pubblicato libri, hanno organizzato mostri, hanno dipinto, hanno scolpito e qui siamo appena per testimoniare questo. Ma sicuramente le nostre radici perché qui in Abruzzo abbiamo una storia che non ha nulla da invidiare a nessun altro luogo del mondo. Noi gli abruzzesi siamo per tradizione un popolo restio, però conserviamo la memoria e la cultura. Attira sempre moltissimo l'arte, questo è vero, i colori, come diceva Cesare Pavese, non piangono e quindi hanno sempre la loro attrattiva che non perde mai di moda. Tra i premiati è anche la trasmissione Misteri Vestini di Loris Di Giovanni. Fortunato format realizzato in collaborazione con la testata Vestina Web TV è andato in onda proprio sui canali di TV6. Tra i paesi visitati Pianella, sulle tracce di un carbonaro Vincenzo Cipriani e di un manoscritto massonico misterioso. L'epopea della famiglia De Felici e dei legami con Giuseppe Garibaldi, ma anche della permanenza in città di Enrico Sappia, un agente segreto di Mazzini. Poi a Loreto a Brutino per narrare la storia dell'antica cartiera gestita da patrioti ascolani, i vecchi, e poi a Nocciano per ripercorrere le gesta del canonico Don Camillo Mapei. Ci ha permesso di girare a Pianella, a Loreto, ma anche a Nocciano, cercando delle storie particolari e raccontandole. Queste storie sono state così ben accettate dal pubblico, anche se sono andate benissimo pure sul web, ma soprattutto c'è un interesse di Rai 1 per l'ultima puntata, quella di Nocciano, per il programma protestantesimo.